Abbiamo due vettori che sono posti a questa inclinazione qua e sapendo che uno è lungo 14,8 e l'altro 20,6 vogliamo determinare le loro componenti cartesiane ma vogliamo andare anche a determinare il vettore somma e il modulo invece di 3a meno b, quindi tutti questi conti in modulo. Come dobbiamo fare? Beh, ovviamente dobbiamo cominciare con il calcolare le componenti dei nostri vettori, ossia ci vengono chieste anche queste lunghezze qua e queste lunghezze qua. Per calcolare queste lunghezze la trigonometria ci offre un modo abbastanza semplice, quindi se io voglio andare a calcolare ax dovrò prendere a e moltiplicare per il coseno di 30 gradi. Allo stesso tempo devo fare uguale se voglio a di y, quindi prendo a, ma moltiplico per il seno di 30 gradi. Il conto ovviamente è analogo per quanto riguarda b, quindi scriverò b di x uguale a b per coseno di 45 gradi. In realtà qui l'angolo si trova nel semipiano negativo, quindi non è che posso mettere 45 gradi veramente, ma dovrò mettere meno 45 gradi, perché appunto quello che conta per noi è questo modo di contare l'angolo, ossia in verso anti-orario. Di conseguenza se vado a contare in questo verso dovrò andare a considerare un segno meno nell'angolo, quindi qua avrò by uguale a b per il seno di meno 45 gradi. Adesso dobbiamo fare delle considerazioni, perché ovviamente noi non vogliamo questo segno meno nel calcolare l'angolo. E allora che cosa andiamo a fare? Ricordiamoci che il coseno è una funzione pari, il seno è una funzione dispari. Quindi questo che vuol dire? Nel momento in cui io ho una funzione pari, quindi diciamo che f è pari, allora quello che succede è che se io vado a calcolare f in meno x, questa corrisponde ad f di x. Praticamente il segno meno viene, tra virgolette, mangiato dalla funzione. Se invece f è dispari, allora se vado a calcolare la mia funzione con un segno meno, il segno meno non viene mangiato ma viene espulso dalla funzione. Quindi praticamente quello che succede qua è che qui appunto il segno meno viene mangiato e qui viene espulso. Poi a questo punto che cosa ci ricordiamo? Ci ricordiamo che qui dobbiamo andare a sostituire il valore di B che è 20,6. Mentre dobbiamo ricordarci quanto vale il seno e il coseno a 45 gradi. Il loro valore è radical 2 mezzi. Mentre il valore di seno e coseno a 30 gradi, anche quello ce lo ricorda la trigonometria. Cioè quando io vado a 30 gradi, la lunghezza del coseno è radical 3 mezzi. La lunghezza del seno sarà invece un mezzo. Quindi questa altezza qui è un mezzo, mentre questa lunghezza qua è radical 3 mezzi. Quindi ricordando che A è 14,8, e avendo capito che il coseno è radical 3 mezzi e il seno è un mezzo, siamo pronti adesso per calcolare le nostre componenti. Quindi calcolatrice alla mano, facendo 14,8 per radical 3 mezzi, oppure per chi non se lo ricorda andando a mettere direttamente coseno di 30 dentro la calcolatrice, Allora quello che otteniamo è 12,8, che è proprio il risultato che volevamo trovare. Se adesso andiamo a fare 14,8 per un mezzo, otteniamo proprio 7,4, ed è proprio quello che volevamo trovare. Se andiamo a fare 20,6 per radical 2 mezzi, otteniamo 14,56, e ovviamente seno e coseno a 45 gradi sono identici, anche perché come possiamo vedere qua abbiamo disegnato appunto un quadrato. Quindi appunto altezza e larghezza nel caso di 45 gradi è identico. Quindi qui abbiamo lo stesso identico conto, bastava vedere già da qui che abbiamo messo lo stesso numeretto. E infatti se andiamo a guardare, quello che otteniamo è proprio questo. Solo che qui, come possiamo vedere, compare un segno meno. Perché compare un segno meno? Perché appunto, come dicevo prima, questo segno meno viene estrapolato e riportato poi avanti. Quindi il risultato, possiamo dire che è uguale in modulo, semmai. Però appunto da un punto di vista di segno, allora ovviamente sarà col segno meno. Anche perché appunto possiamo vedere che in questo quadrante le altezze sono appunto negative, mentre le lunghezze sono positive. Una volta calcolato a e calcolato b, possiamo procedere al calcolo di a più b, semplicemente mediante una somma componente per componente. Che vuol dire questo? Vuol dire che se io ho due vettori a più b, se posso esprimere a mediante le sue componenti, ossia ax virgola a y, e poi posso andare ad esprimere b, secondo le sue componenti, bx, by, allora la somma verrà effettuata componente per componente, ossia ax più bx virgola a y più by. Il che vuol dire che prendendomi i risultati appena calcolati, ossia 12.8 più questi valori qua, li andiamo ad approssimare a 14,6, come fa sul libro. Quindi questa cifra la posso approssimare a 6 e quindi andrò a prendere appunto 14,6 virgola. Quindi adesso dovrò mettere le componenti delle altezze, quindi 7,4 per a y più by, che abbiamo detto che sarà meno 14,6. Quindi qui dovrò mettere meno 14,6. Quindi adesso siamo pronti per fare queste somme. La prima sarà 27,4 e l'altra sarà meno 7,2. Quindi questo mi ha consentito di andare a calcolare le componenti del mio vettore a più b. Noi però del vettore a più b ne vogliamo il modulo. Quindi vuol dire adesso che chiamando il vettore a più b con s, come faccio s come somma? Come faccio a calcolarmi adesso il modulo del vettore s? Beh, dovrò andare a fare che il modulo di s sarà dato dalla radice quadrata delle componenti al quadrato. Quindi la componente x del vettore somma al quadrato più la componente y del vettore somma al quadrato. Quindi praticamente dovrò fare la radice quadrata di 27,4 al quadrato più meno 7,2 al quadrato. Ovviamente il segno meno viene mangiato dal quadrato in quanto è una funzione pari. E quindi andiamo a fare questo conto sulla calcolatrice. Facendo direttamente tutto il conto, ossia 27,4 al quadrato più 7,2 al quadrato, tutto sotto la radice e applicando anche la radice, troveremo 28,33 che è giusto, sul libro è stato approssimato a 28,3. Ok, adesso invece, arrivati a questo punto dobbiamo calcolare 3a meno b. E dobbiamo comportarci come prima, nel senso che la somma va fatta componente per componente, ma anche la differenza, che è praticamente come la somma, va fatta componente per componente. La novità sta nel fatto che qui davanti c'è una costante nel vettore a. E come si va a fare quindi? Beh, supponiamo di fare questo conto solo con le componenti. Allora a questo punto che cosa avrei? Avrei 3ax meno bx, virgola. Quindi questo qui è esattamente il conto preliminare che dobbiamo andare a fare prima di poter accedere al modulo, perché appunto quando ho uno scalare per un vettore, ci si comporta andando a prendere quello scalare e a moltiplicarlo per le componenti del mio vettore. Quindi se ho 3 per ax, ay, allora il prodotto tra scalare e vettore mi dà 3ax, 3ay. Perfetto! Quindi a questo punto siamo pronti. Qual era la mia ax? Ax è 12,8. Quindi qui avrò 3 per 12,8 meno la bx. La bx abbiamo detto che è 14,6, 14,6, virgola. 3 ay, quindi 3 per ay che è 7,4, meno by, attenzione perché by era già negativa, quindi facendo meno meno poi otteniamo un valore che è positivo, quindi 14,6 e dunque con il segno più. Quindi adesso questo step si fa tutto con la calcolatrice e quindi una volta fatti i passaggi con la calcolatrice abbiamo ottenuto di nuovo il nostro vettore somma. Quindi per andare a differenziare adesso, mentre prima l'abbiamo chiamato S vettore somma, questo lo chiamiamo D vettore differenza e andiamo a calcolare dunque il modulo di D. Quindi abbiamo modulo di D uguale alla radice quadrata di dx alla seconda più dy alla seconda. Quindi ancora una volta andiamo a sostituire le varie componenti qui dentro e andiamo a vedere che cosa ci esce qua con la calcolatrice. Quindi il risultato che ci viene fuori è 43,8 che poi sul libro appunto è proprio quello. Quindi in realtà era ancora più lungo sulla calcolatrice e viene direttamente approssimato a 43,8 dal libro. E quindi questo è l'esercizio completo. Non lo chiede ma ovviamente una cosa che possiamo andare a fare è rappresentare come si deve la situazione. La rappresentazione grafica più o meno precisa dei vettori che abbiamo trovato prima è la seguente. Ho lasciato gli stessi colori per quanto riguarda A e B e sono andato invece a rappresentare in viola il vettore somma e in blu il vettore differenza che ci siamo calcolati prima. Che poi diciamo all'interno di GeoGebra è abbastanza facile perché come si può vedere qui sono andato a definire S direttamente facendo A più B e D andando a fare direttamente 3A meno B e in questo modo mi trova direttamente i punti. Naturalmente non è ultra preciso perché come sappiamo a causa delle radici qualche approssimazione viene meno. Però tutto sommato questo è il grafico preciso che uno potrebbe riprodurre su GeoGebra. Grazie a tutti.